Bersani ce la fa? È difficile in questo momento, facciamo tanti auguri a chiunque. In questo momento credo che sia molto difficile. Qualcuno ha detto siamo in campagna elettorale. Non lo so, io non sarei così ostile a una continuazione della campagna elettorale cercando di informare i cittadini della realtà e andando, dopo aver cambiato la legge elettorale, immediatamente ad altre nuove elezioni. L'Italia rischia? Rischia molto, perché tutti guardano a noi con preoccupazione e se noi non daremo segni di essere capaci di governarci e di attuare quelle riforme che sono necessarie io credo che avremo delle situazioni molto difficili con cui scontrarci. Nel cilindro c'è ancora qualcosa? Io nel cilindro ho tirato fuori tante cose dal cilindro. Penso dentro di me, perché sono un ottimista, che il cilindro sia inesauribile. Ma per il momento altre cose nuove, ne ho una soltanto. Nuove elezioni il più presto possibile.